Buongiorno dalla redazione di RTC Quarta Rete. Apriamo con Cava dei Tirreni domani alle ore 17 presso Palazzo di Città. Nell'ambito della manifestazione premio Legalità e Sicurezza indetto dall'Associazione Avvocati di Cava dei Tirreni sarà conferito il riconoscimento al procuratore della Repubblica Gianfranco Izzo. L'evento, giunto alla sua ottava edizione, sarà anche l'occasione per presentare i due nuovi giudici di pace assegnati a Cava dei Tirreni. E restiamo nel comune metelliano. Dopo il workshop sulla finanza agevolata e fondi europei disponibili per le piccole e medie imprese, l'assessore all'attività produttiva Enrico Bastolla ha annunciato per il mese di marzo un appuntamento dedicato alle possibilità di finanziamento per il settore agricolo. Ci spostiamo a Pagani dove venerdì alle ore 11.30 sarà inaugurata la piccola biblioteca allestita all'interno dell'ospedale Andrea Tortora su iniziativa dell'ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. La struttura, ubicata in uno spazio tra il reparto di oncologia e la sala chemio, servirà a sostenere e ad accompagnare moralmente i malati di tumore durante lunghi periodi di terapia o degenza. E sempre nel comune d'Oriano è polemica riguardo alla fontana di piazza Sant'Alfonso, dopo il post su Facebook del sindaco Bottone nella giornata di sabato. Ancora una volta devo consattare che ci sono individui il cui principale divertimento è da adeggiare la città fisicamente e moralmente. La fontana ai piedi della statua di Sant'Alfonso nella piazza principale, spiegava il primo cittadino, è stata oggetto di atti vandalici. Una fontana per la quale era in programma un intervento di riqualificazione dopo anni di assenza di manutenzione per decine di migliaia di euro e che oggi vede distrutti anche i tubi. Concludiamo con lo sport, calcio. La Cavese torna a casa con un punto in tasca, ma come ha raccontato Aldo Papagni in sala stampa, c'è soddisfazione per la reazione che hanno avuto gli 11 titolari sul terreno di gioco. Noto due torri e Vallo della Lucania sono, secondo Papagni, la dimostrazione che gli aquilotti sanno reagire non avendo paura dell'avversario, anzi. Bene, per questa edizione è davvero tutto, grazie per averci seguito. Vi auguriamo una buona giornata.